È stato condannato a 18 anni di carcere per aver abusato della sua ex moglie e dei figli. La pena è stata inflitta a un'ultra settantenne che vive nel cuore del vallone. In più, oltre alla perdita della responsabilità genitoriale, è stato condannato anche al pagamento di una provvisionale e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, la ex moglie e due figli. La condanna è stata emessa dal Tribunale di Caltanissetta, presieduto dal giudice Francesco d'Arrigo. Sull'uomo pendevano le ipotesi di violenza sessuale aggravata ai danni della moglie e i due figli, oltre che di maltrattamenti in famiglia. L'incubo in casa sarebbe andato avanti per diverso tempo. Per quanto riguarda la moglie, fino al dicembre di tre anni fa. Gli abusi sui figli, invece, sarebbero avvenuti tra il 2015 e il 2018 nei confronti di uno di loro e il 2016 a danno dell'altro. È stata la denuncia della donna presentata ai carabinieri a fare scattare l'indagine e successivamente l'arresto dell'uomo. La donna avrebbe descritto un vero e proprio inferno, con tantissime minacce di morte, episodi violenti come pugni, schiaffi, spintoni e anche una cintura stretta intorno al collo, oltre ai continui insulti. L'imputato rimarrà in carcere, dove era detenuto dopo la denuncia presentata dalla ex moglie.